Matteo Caponi si è dottorato presso la Scuola Normale Superiore di Pisa con tutela con l'Università Paris-West Nanterre, la Défense. Nel suo percorso di ricerca ha affrontato molti temi, molti campi che vanno dalla storia della Chiesa in età contemporanea, alla Grande Guerra, ai linguaggi della nazione, nelle culture del sacrificio nel Novecento, al culto dei Santi, alla figura di Romolo Murri e così via. Ricordo le sue monografie più importanti, soprattutto una chiesa in guerra, Sacrificio e mobilitazione nella diocesi di Firenze, 1911-1928, pubblicato da Biella nel 2018, un lavoro estremamente raffinato, molto documentato, che analizza come nel contesto appunto fiorentino maturi l'adesione delle gerarchie ecclesiastiche al discorso nazionale. Uscirà invece nel 2021 la sua seconda monografia dal titolo Il Patrono dell'Italia Repubblicana, dedicata alla costruzione della figura di San Francesco d'Assisi come santo patrono dell'Italia. Quindi aspettiamo tutti con grande interesse l'uscita di questo nuovo contributo. L'intervento, la presentazione di Matteo Caponi nel seminario di oggi si intitola, come avete potuto vedere, Tear Them Down, Christian Depictions, Whiteness and Anti-Racism. Poiché siamo, direi, tutti italiani e in questo momento c'è un audience prevalentemente di italofoni, insomma credo che la presentazione sarà in italiano, sulla base tuttavia di molte fonti, insomma, primarie, che prevalentemente in inglese immagino, insomma, legate soprattutto al contesto statunitense. Io mi fermo qui e lascio la parola a Matteo che ringrazio ancora, insomma, per aver accettato il nostro invito. Sì, grazie, grazie a tutti, grazie innanzitutto per l'invito e a tutti i partecipanti. Condivido subito magari lo schermo con le diapositive. Sì, perfetto. Dunque, appunto, il taglio del mio intervento riguarda, diciamo anche, come è stato detto da Francesco Cassata, un tema di particolare attualità, questo bisogna subito dirlo, il mio spunto è uno spunto d'attualità. Tear Them Down è, infatti, e anticipo questo aspetto, è una citazione da un tweet di Sean King, un attivista statunitense per i diritti civili, un tweet del giugno 2020, che ha scatenato molte polemiche. relativo al fatto, questo è il contenuto del tweet, tear Them Down, bisogna buttare giù, bisogna distruggere e abbattere, non solo i monumenti della Lost Cause, come sapete, messi sotto accusa e presi a bersaglio dalle proteste del movimento Black Lives Matter, ma addirittura, e questo è stato di qualità, qualsiasi statua fresca e vetrata raffigurante Gesù come un europeo bianco. Allora, questo è, diciamo, il punto di partenza, però non ci arriverò subito. Comunque, il tema è quello della, si potrebbe dire in generale, dell'iconoclastia, dell'iconoclastia antirazzista, e di come questo tema si è legato appunto alle rappresentazioni iconografiche cristiane, in particolare le raffigurazioni di Gesù, della Madonna e dei Santi. Quindi, un tema che si lega a quello dei seminari che stiamo appunto, a cui stiamo partecipando, si tratta di un'eredità difficile, in che senso? Naturalmente nel senso che, soggettivamente, da una parte degli attori in gioco, la presenza di, pervasiva, di immagini che ritraggono Gesù, la Madonna e i Santi come personaggi bianchi, rappresenta un qualcosa di dissonante con un'identità, quella contemporanea, che vuole essere positiva e inclusiva. Naturalmente non c'è tempo qui per soffermarsi sui significati del concetto di white supremacy, supremazia bianca, che però naturalmente è una categoria che comporta dei problemi, una categoria che nel dibattito attuale si è molto dilatata, fino a includere sostanzialmente qualsiasi aspetto, qualsiasi manifestazione non solo di razzismo bianco, antinero, ma anche di pregiudizio e di, appunto, in generale di pregiudizio vagamente razziale. Però io vorrei partire forse dalla sua accezione un po' più stretta e anche storicamente determinata, che è quella relativa, appunto, al mito della Lost Cause negli Stati del Sud statunitensi. Prima però, come un riferimento, vorrei dare una famosa ricerca del sociologo Franklin Frazier, Negro Youth at Crossways, del 1940, giusto per far capire che questo tema è un tema che non è assolutamente un tema inedito. Nel 1940 questo sociologo famoso afroamericano pubblica una ricerca in cui un capitolo è dedicato a questo argomento, Is God a White Man? E' interessante notare come le risposte, è una ricerca, scusate, naturalmente indirizzata a, rivolta alla gioventù afroamericana. Tra le varie domande, appunto, c'è questa, Is God a White Man? E la maggior parte delle risposte va in questa direzione. I've never heard of him, cioè of Jesus, of God, being a Negro, so he must have been a white man. Oppure, come questa, Picture I've seen of him are really white, so I just took for granted he was a white man. Dunque, un argomento molto presente, in realtà, nel dibattito pubblico statunitense. E io mi soffermerò soprattutto su questo, con un riferimento prioritario poi al cattolicesimo. E recentemente anche un argomento sollevato da dei saggi, e anche da dei saggi di non specialisti, ma di storici, diciamo, public historian, come Robert Jones, in questo libro recente, White Too Long, in cui il centro del discorso è non solo il peso, ma il ruolo fondamentale della cristianità bianca, del cristianesimo bianco americano, nel non solo supportare, ma nel costruire un'idologia di supremazia bianca. E una parte fondamentale di questo discorso è anche legata all'aspetto monumentale, all'aspetto appunto dei segni della memoria. E qui, innanzitutto, partirò da due esempi non cattolici, ma episcopali, della Chiesa Episcopale, o episcopaliana, insomma, come si vuol dire, o comunque la Chiesa Episcopale americana. Come sapete, che è quella che ha maggiori contatti con la tradizione anglicana, fa parte della comunione anglicana, e in maggioranza composto appunto da cristiani bianchi. Dunque, questi due esempi sono proprio due esempi che ci possono, ci mettano a contatto col tema delle raffigurazioni cristiane e il suprematismo bianco in modo abbastanza, appunto, eloquente. Si tratta di monumenti, vetrate in particolare e lapidi, collocate in cattedrali, in quella di Richmond e in quella di Washington, la National Cathedral di Washington. Il primo caso, quello di Richmond, è particolarmente significativo perché è la capitale, appunto, degli stati confederati durante la guerra civile e fin dagli anni 90 dell'Ottocento, cioè post ricostruzione, la cattedrale comincia a ospitare targhe dedicate ai caduti che, come questa, spesso riportano le bandiere confederate come simbolo e poi soprattutto anche due vetrate dedicate a General Lee e a Jefferson Davis. Allora, questi oggetti sono stati lì fino al 2015, cioè fino alla sparatoria di Charleston, famoso episodio in cui vennero uccisi da un suprematista bianco nove afroamericani della Chiesa e metodista episcopale. E dopo questo episodio viene lanciata un'iniziativa che si chiama History and Reconciliation Initiative che, appunto, è indirizzata a riflettere sull'eredità del suprematismo bianco all'interno dei luoghi di culto cristiani e in particolare di questo. Ora, non c'è tempo per fare, per ricostruire tutti i passaggi, però l'aspetto significativo è che dopo due anni, dopo vari anni di dibattito, si arriva a una decisione di rimuovere prima i simboli che hanno proprio un'esposizione esplicita delle bandiere confederate e dopodiché anche in generale le targhe che ricordano in qualche modo il culto della Lost Coast. Però è interessante il tipo di, invece, di significazione che viene data delle vetrate. Le vetrate sono, per tradizione, nella memoria della collettiva, considerate delle metafore appunto dei ruoli salvifici di questi due personaggi storici confederati. Uno viene paragonato a Mosè e l'altro viene paragonato a San Paolo in vincoli. Mosè è il condottiero lì e Jefferson Davis è invece San Paolo in catene dopo, naturalmente, la fine della guerra civile. Ecco, qual è la soluzione che viene adottata molto rapidamente? È una soluzione, come viene detto specificamente, di storytelling, cioè si dice che è stato fatto in passato un'operazione di falso storytelling, per cui si è detto che queste due vetrate richiamavano allegoricamente questi personaggi, ma non c'è alcuna prova documentaria per dimostrarlo. Quindi, quello che possiamo dire è che noi ribadiamo oggi la falsità di questa rappresentazione. Ora è chiaro che si tratta di un'operazione molto omissiva che in realtà non fa veramente conti con quel passato ed è un'operazione che si lega a un altro aspetto molto interessante per cui le scritte delle manifestazioni, in particolare questa, sui gradini della Chiesa, I Can't Breathe scritta appunto in una delle manifestazioni di Black Lives Matter, si decide che vengano conservate a perpetua memoria e quindi si uniscono come una specie di street art monument al passato problematico di questo luogo. E così abbiamo anche l'esempio della National Cathedral di Washington che è ancora più eclatante perché qui abbiamo veramente invece delle vetrate che richiamano direttamente i personaggi storici più importanti della lotta degli stati confederati e anche qui sono fondamentali gli episodi d'attualità per scatenare diciamo un ripensamento Charleston nel 2015 e poi Charlottesville nel 2017 e anche in questo caso è interessante notare come ci sia un ripensamento molto problematico diciamo molto problematico perché non fa veramente conti con il passato segregazionista anche tenete conto che qui siamo a Washington è ancora più interessante del caso precedente perché queste vetrate vengono installate nel 1953 in pieno dopo guerra appena l'anno prima della sentenza storica del 54 che lancia la desegregazione quindi insomma sono relativamente anche recenti il lettore della cattedrale condanna i significati attribuiti a queste vetrate degli eroi della confederazione ma al tempo stesso ribadisce anche uno dei soliti cliché è vero ci sono dei simboli della confederati le bandiere che non a caso vengono quelle vengono subito rimosse solo dopo qualche anno però si decide proprio di rimuovere tutte le le vetrate dicendo che fanno parte appunto di un mito suprematista bianco ma anche affermando che coloro che promossero l'installazione di questa vetrate cioè United Daughters of the Confederacy era un gruppo a cui interessava valorizzare l'eredità storica suddista appunto ricostruzione abbastanza elusiva in quanto in realtà come tutti sanno le United Daughters of the Confederacy sono uno dei maggiori vettori del del razzismo segregazionista quindi diciamo un'eredità vissuta problematicamente anche per quanto riguarda il cattolicesimo abbiamo degli esempi questo è uno due monumenti a Father Ryan cosiddetto poet priest of the south vandalizzati e poi soprattutto abbiamo l'esempio di due figure storiche un'ipero serra il francescano missionario nell'attuale California nel diciottesimo secolo e fondatore delle prime missioni e poi vedremo anche San Luigi e questo è il video dell'abbattimento della statua 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 collocata nel Golden Bridge Park di San Francisco nel 1907 allora è interessante naturalmente questa figura viene considerata dai manifestanti dei Black Lives Matter come un simbolo del genocidio culturale promosso dai colonizzatori europei bianchi a danno dei popoli indigeni è interessante notare la risposta che viene data dall'arcivescovo di San Francisco Cordileone è una risposta molto molto decisa in che senso? nel senso che l'arcivescovo e questa è la la reazione anche maggioritaria all'interno della gerarchia ecclesiastica americana condanna questo atto come un atto di sostanziale blasfemia quindi come un atto di iconoclastia che ha un valore antireligioso anticristiano non nasconde il fatto che Black Lives Matter sia un movimento che supporta delle ragioni valide ma al tempo stesso in modo radicale intende proporre una precisa visione per cui i manifestanti di Black Lives Matter sono animati da una volontà antireligiosa nel colpire questi monumenti addirittura pratica un esorcismo subito dopo l'abbattimento della statua un vero e proprio esorcismo essendo nella sua logica la statua benedetta e quindi un sacramentale quindi attenzione questo è uno degli schemi con cui si va a leggere l'iconoclastia di quei giorni e l'altro caso è San Luis un monumento a San Luis in Missouri anche questo che non ha naturalmente che viene eletto come un monumento di supremazia bianca ma con una mediazione chiara perché naturalmente siamo in uno stato che appunto non ha molto da dire con questa vicenda non ha molto non ha per niente a che fare con la vicenda degli stati confederati però ecco anche in questo caso San Luis viene contestato da un movimento vedete qui c'è il cartello San Luis Committed Genocide come un un genocida colonizzatore perché è il simbolo della cultura europea che ha distrutto che ha distrutto la cultura nativa americana e e anche in questo caso c'è una su questo monumento intorno a questo monumento si verifica una vera e propria vicenda dell'episodio interno alle culture wars americane per cui si scontrano anche a livello fisico si arriva ad uno scontro anche fisico tra manifestanti di Black Lives Matter e manifestanti cattolici che vogliono difendere la statua sulla statua viene anche scritta questa frase naturalmente una una sorta di pseudo vangelo di Floyd God said take this racist this racist scent down George Floyd 846 naturalmente è il riferimento al tempo che ha impiegato il polizzato per uccidere Floyd tenendo il ginocchio sul suo collo dunque qual è l'aspetto interessante di queste vicende poi vengo ai tweet di King e l'aspetto interessante è che la lettura totalmente decontestualizzata che viene fatta da entrambe le parti in realtà di questi monumenti in particolare possiamo riferirci al monumento appunto di Unipero Serra e di San Luigi è ovvio che non hanno a che fare direttamente con il tema del suprematismo bianco ma nessuno degli attori in campo ricorda un aspetto fondamentale cioè il significato che quei monumenti assunsero nel contesto in cui vennero creati e posti sul luogo 1906 1907 come un libro recente ha ricordato di Catherine Moran The Imperial Church Catholic Founding Fathers and the United States Empire è interessante notare proprio come il cattolicesimo venga incorporato all'inizio del novecento nella narrazione dominante bianca anglosassone dell'eccezionalismo bianco anglosassone celebrando alcune figure del passato e proprio nel passaggio degli Stati Uniti da rinati dopo la guerra civile nella loro vocazione finalmente imperiale sia continentale che mondiale proprio in questo passaggio si verifica l'assunzione di questi personaggi ad emblema di questa visione di questa visione dell'americanismo cristiano bianco non è quindi così poi sbagliato ricondurre quei monumenti alla tematica del razzismo anche antinero e ricordiamoci per esempio che la statua di Unipero Serra è presente attualmente nella galleria dell'estrato del Campidoglio quindi come sapete ogni stato ha due ogni stato degli Stati Uniti ha due statue la California unipero Serra come padre fondatore e l'altro è Reagan quindi diciamo questo è il contesto in cui maturano questi tweet un contesto appunto che non fa molti conti con i significati da entrambe le parti si può dire storici attribuiti a questi monumenti è un contesto in cui si verifica una forte radicalizzazione già nell'estate prima di questi tweet anche da parte delle gerarchie ecclesiastiche cioè una guerra antireligiosa una guerra religiosa anzi tra chi protegge i simboli cristiani e chi li vuole abbattere in questo contesto già roventato si citano questi tweet allora li leggiamo sono due tweet in successione poi tra l'altro vengono cancellati perché l'autore viene minacciato in vario modo l'autore ha un milione di follower più o meno quindi è un personaggio che ha una media popolarità però ha una sua diciamo rilevanza ed è anche oggetto spesso di dibattito pubblico yes I think that the statues of the white european they claim is jesus should also come down they are a form of white supremacy always have been in the bible when the family of jesus wanted to hide and blend in guess where they went egypt not denmark tear them down naturalmente grandi polemiche ma una denuncia non particolarmente nuova questo c'è da da osservare trattata però come tale anche dai mezzi dell'informazione sicuramente in generale pochi mezzi di informazione si soffermano sul retroterra e soprattutto come vedremo anche la stessa cultura cattolica non fa un'analisi di come è questituita apparentemente così vabbè appartenenti a una uscita estemporanea abbiano una lunga tradizione non è una denuncia nuova la critica alle immagini e qui naturalmente facciamo un passo ulteriore la critica alle immagini all'iconografia cristiana in quanto bianca come simbolo di razzismo e di supremazia bianca appunto ha una lunga storia e questa lunga storia diciamo è ben incarnata da anche da due immagini di di larghissimo successo negli anni 40 una è quella legata al culto di Faustina Kowalska quella a sinistra e l'altra è quella di Warner il Salman veramente forse la più venduta immagine religiosa nella storia sono immagini naturalmente che sono l'esito di un lungo processo di commercializzazione dell'immagine religiosa che qui io non ho neanche gli strumenti di ricostruire però ecco diciamo l'esito di questo processo nel nel contesto di una società in cui valgono le regole della cultura di massa e dell'industria di massa è questo un Gesù bianco con questi particolari appunto tratti che potremmo sintetizzare come caucasici ed è questo a cui l'autore dei tweet fa riferimento allora è interessante notare come la prima argomentazione usata e poi ribadita in un ulteriore post di Facebook è riferimento al fatto che appunto questa l'immagine dei Gesù bianchi tradisca la realtà storica innanzitutto e come l'autore non utilizzi un'argomentazione religiosa o teologica per ribattere a questa rappresentazione ma puramente di tipo fisico etnico razziale potrebbe sembrare scontato in realtà non lo è perché Sean King ha un passato da pastore protestante da non denominazionale quindi è una persona che ha una cultura di terra fortemente religioso e quello che scrive io penso non sia una banalità perché è radicato in una retroterra culturale religioso ma l'argomentazione che lui porta è un'argomentazione per cui l'immagine del Cristo bianco del Gesù bianco è un'immagine falsa innanzitutto da un punto di vista storico e da un punto di vista razziale perché Gesù storicamente si può dire con certezza non era bianco è un'argomentazione che lega antirazzismo scientifico tra l'altro si usa un'immagine che è quella del documentario un famoso documentario della BBC dedicato appunto a questo tema che ha fornito una ricostruzione digitale della faccia di Gesù basandosi su appunto dei criteri piuttosto discussi che comunque hanno utilizzato una ricostruzione antropometrica basata su dei crani del mar morto insomma c'è tutto un recuperare elementi della tradizione dell'antropologia fisica per arrivare a questa conclusione naturalmente che è molto fittizia ma sicuramente si può dire ecco che in questo non si può non essere d'accordo con Sean King Gesù era un un ebreo vissuto circa duemila anni fa la cui pelle dicono gli studi che incrociano varie discipline non era bianca come quella rappresentata dai quadri che abbiamo appena visti però qual è l'elemento interessante l'elemento interessante è che Sean King chiama in causa un altro stereotipo che solo incidentalmente è stato sottolineato lo stereotipo della fuga in Egitto perché Gesù scappa in Egitto perché appunto si poteva confondere poteva blend in si poteva confondere con la popolazione dell'Egitto è un riferimento apparentemente occasionale scontato non lo è perché si inserisce in una enorme sterminata letteratura che parte dall'Ottocento legata al tema del mito etiopianista per cui vari esponenti del cristianesimo protestante americano innanzitutto come in partenza la chiesa mitodista episcopale riflettono sul fatto che Gesù sia nero non solo da un punto di vista teologico ma da un punto di vista fisico e raziale e si lega questa consapevolezza del fatto che Gesù sia nero a un ruolo provvidenziale di questa affermazione di rinnovamento del cristianesimo a livello globale e della società americana e tutti i passaggi legati all'Egitto che possono essere tratti dal testo biblico si rimandano inevitabilmente a questa lunghissima tradizione che qui non c'è non c'è modo di richiamare ma che è ben incarnata dall'etiopianismo di Blyden prima e poi da questo famosissimo e importantissimo personaggio che è Marcus Garvey leader del nazionalismo nero negli anni venti a Harlem inventore del primo movimento di massa nazionalista nero e soprattutto colui che promuove il tema del Gesù nero da un punto di vista raziale Jesus Christ had the blood of all races in his vein dice ma in realtà il grosso del 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 sangue di Gesù viene dal negro blood che si è mescolato al sangue ebraico allora questa connotazione razziale molto fisica viene utilizzata appunto per scardinare le icone bianche Garvey promuove una vera e propria chiesa l'African Orthodox Church che a sua volta intende promuovere un culto di Gesù come uomo nero e della Vergine Maria come black madonna never admit that Jesus Christ was a white man significa anche bruciare e abbattere le immagini del del razzismo bianco condensate intorno appunto a Gesù e alla Madonna e Garvey è il primo che popolarizza questa questa dinamica naturalmente questa dinamica poi verrà ripresa questo concetto e questa dinamica cioè del Gesù nero dal punto di vista proprio fisico il colore della pelle di Gesù nero viene ripresa in modo molto forte nell'età dei diritti civili famosa all'intervista di Malcolm X su Playboy del 1963 in cui c'è la domanda degli intervistatori ma tra le domande si parla a un certo punto del Gesù bianco e Malcolm X risponde Christ wasn't white was a black man e lo intende appunto in senso proprio fisico tra l'altro cita qual è come affermazione cosa possiamo riportare cita beh basti pensare che il Papa prega davanti Pio XII l'ha riportato Life la rivista Life davanti a un Gesù nero in realtà la rivista Life riporta Pio XII che prega dopo la sua morte nella sua cappella di Castangaldorfo davanti all'icona della Madonna di Cestocova Madonna nera appunto che qui viene però letta come viene travisato il fatto che non sia la Madonna va bene ma Gesù ma comunque viene letta come Madonna nera in senso fisico e c'è tutta una tradizione di distruzione delle icone bianche del Gesù bianco che viene portata avanti dalla Nation of Islam e da questo comitato il Committee for the Removal of All Images that Attempt to Portray the Divine negli anni 70 che è un comitato interdenominazionale inter faith cioè si vuole coinvolgere anche le varie denominazioni cristiane per abbattere questa grande bugia del Gesù bianco bugia appunto che si muove su quella del Gesù bianco e verità quella del Gesù nero che continua a muoversi su due livelli cioè tra chi proprio pensa che il Gesù nero sia proprio una realtà tra l'altro razziale da affermare quindi che il Gesù bianco sia una bugia in senso stretto storicamente da decostruire e chi pensa invece che il Gesù nero sia una e questa è diciamo poi la la linea generale della Black Theology portata avanti da Cohn cioè il suo maggiore alfiere che sia teologicamente nero il che vuol dire non metaforicamente vuol dire che Gesù il significato di Gesù è l'essere nero in quanto oppresso ma naturalmente questa accezione è una accezione totalmente diversa dalla caratterizzazione del Gesù razzialmente nero che dà per esempio Garvey e poi uno dei suoi più grandi estimatori che è Albert Clegg che fonda negli anni 60 nel 67 in piena stagione della lotta dei diritti civili e dell'emergenza del Black Power questo santuario The Shrine of the Black Madonna a Detroit rimuovendo una vetrata che rappresenta i padri pellegrini che sbarcano nel nuovo mondo e sostituendola con questa rappresentazione della Madonna nera e di Gesù bambino nero e lui dice quando dico che Gesù è nero intendo proprio che Gesù sia nero non che possiamo fare finta let's pretend che Gesù era nero è necessario o è necessario psicologicamente per noi credere che Gesù era nero io sto dicendo che Gesù era veramente nero cioè fisicamente nero allora questo è il retroterra quindi un retroterra molto ricco che rimanda alla battaglia del nazionalismo nero cosa è interessante notare che ancora una volta la reazione la reazione della gerarchia ecclesiastica è una reazione molto molto ben definita nel sostanzialmente omettere questa tradizione il vescovo ci sono varie varie interventi dopo questi tweet di Sean King ma in particolare Donald Hying il vescovo di Madison ribadisce appunto non possiamo stare rimanere silenti di fronte a questa ondata di dice secular iconoclasm che viola la libertà religiosa given to man by God himself and guaranteed by our constitution si tratta di un attacco alla libertà religiosa e all'apostolato che i cattolici possono espletare in America nessuna parola su questa lunga tradizione che esiste ed è molto pesante i tweet di King hanno una una ricaduta piuttosto blanda nel senso che ci sono dei gravi anche episodi ora a parte questo non si può considerare forse grave questo è una Madonna Brooklyn che viene deturpata con la scritta Idol in un caso però viene addirittura bruciata una chiesa in California da uno squilibrato sembra mosso appunto da questi tweet ma il punto è che non c'è un'ondata di iconoclastia l'ha paventata un'ondata di iconoclastia che può giustificare dei toni così drammatici nel frattempo però cosa succede? che il mondo del conservatorismo statunitense e non qui abbiamo una pagina di un sito tradizionalista che non è statunitense radio spada si scatena contro quei vescovi che appoggiano il movimento Black Lives Matter qui abbiamo un vescovo del Texas è una famosa foto è di un vescovo del Texas di El Paso mi pare che si inginocchia take a knee aderendo alla protesta di Black Lives Matter e tra l'altro riceverà anche poi una chiamata da Bergoglio di sostanziale approvazione del suo gesto ecco cosa va a simboleggiare questa foto va a simboleggiare naturalmente la Chiesa Cattolica una parte della Chiesa Cattolica che si inginocchia davanti a un movimento anticristiano di abbattimento della appunto dei simboli religiosi ora la risposta del vescovo di Madison a cui facevo riferimento prima Hain è una risposta doppia da un punto prima c'è appunto una lunga cioè in realtà non lunga una concisa ma forte condanna dell'iconoclastia letta in chiave puramente secolarizzata antireligiosa e atea sostanzialmente quindi c'è dietro un richiamo alla tradizione dell'iconoclastia anticristiana antireligiosa per come viene proposta dalla cultura cattolica quindi per esempio dei siti richiamano la persecuzione spagnola il tema della persecuzione spagnola e messicana da parte delle chiese addirittura quindi cioè siamo in un livello di dramatizzazione estremo e poi l'altro argomento è che Jesus is colorblind allora il modo in cui si risponde a queste affermazioni è che ognuno ognuno ogni every culture country ethnicity race ha il diritto di raffigurare Gesù come crede tanto che dice in Guadalupe c'è la Madonna nera mestiza meticia e african art depicts Jesus as black ora è chiaro che anche questo è un'affermazione peculiare cioè no scusate non peculiare singolare perché non è proprio così cioè la storia anche che ho semplicemente rammentato con questi bei passaggi dimostra che non è così cioè come scrive anche un famoso scusate prendo il libro questo questo famoso Lawrence Lucas un famoso sacerdote afroamericano autore di un libro black priest white church negli anni 60 70 in realtà la chiesa afroamericana le chiese afroamericane negli Stati Uniti sono chiese nere di cultura bianca le raffigurazioni permesse sono raffigurazioni bianche specialmente quelle di Gesù quindi diciamo è un ragionamento particolarmente che distorce particolarmente la realtà e che fa forse riferimento a un retroterra particolarmente cavalcato dalla riflessione in merito all'arte cristiana che c'è nel novecento anche in ambito cattolico pensiamo Costantini uno dei maggiori critici d'arte cristiana è attivo col consenso vaticano nel promuovere già prima del concilio vaticano secondo un'inculturazione delle immagini sacre però attenzione l'inculturazione ha delle gerarchie ha delle precise gerarchie e mi sembra che questo concetto venga ripreso in modo acritico dai vescovi americani e soprattutto come scrive Costantini in arte cristiana questo del 39 ovviamente è un periodo totalmente diverso da quello di cui si parla però vorrei comunque fare riferimento a questo passaggio parla dell'Etiopia dice in Colonia in Etiopia una chiesa fatta in un quartiere dei bianchi deve armonizzare con l'arte la natura di quel quartiere e non potrà essere interdetta ai neri viceversa una chiesa in una zona riservata a neri potrà ispirarsi a motivi folcloristici per armonizzarsi con l'ambiente dunque si propone un concetto segregazionista dell'arte per cui è vero i neri hanno diritto di dipingere un Gesù nero in Colonia ma sostanzialmente si tratta di folclore lo dice in modo abbastanza chiaro Costantini e il tema vero è si può dipingere un Gesù nero in un paese a maggioranza bianca e in una denominazione in un culto in una confessione religiosa a maggioranza bianca com'è il cattolicesimo com'era e com'è il cattolicesimo negli Stati Uniti ecco questa è la domanda vera a cui non risponde in realtà non risponde il vescovo richiamando questo modello abbastanza inflazionato della color blindness che fa riferimento alla frase famosa di Martin Luther King una frase del 57 scritta su ebony appunto per cui non è rilevante il colore della pelle di Gesù questa frase viene utilizzata appunto in un'ottica di un'ottica molto diversa da quella di King dagli attori successivi per rivendicare appunto per di fatto limitare queste inculturazioni diciamo fuori controllo nell'ottica ecclesiastica dell'immaginario religioso e qui poi per chiudere questa presentazione vorrei fare invece riferimento al fatto che questo discorso implica anche una totale assenza di riflessione su quello che è successo nella cultura cattolica è vero l'immaginario religioso e la iconografia religiosa soprattutto è rimasta a lungo tempo una iconografia bianca ma con dei tentativi creativi di mettere in discussione questa iconografia uno quello più famoso è forse questo riportato da ebony nel marzo 69 the quest for a black christ si tratta di una una chiesa a detroit in cui viene pitturato appunto nella nella cupola un gesù nero contornato da da una schiera di angeli si dice multiculturali tra l'altro si scrivono sotto i nomi di i seguenti nomi Gandhi Malcolm X Martin Luther King i due Kennedy Giovanni XXIII cioè il gesù dei diritti civili è un gesù nero la parrocchia il 90% è una parrocchia nera ma ciò nonostante si creano grandi polemiche arrivano scrive il parroco che è un parroco di origine libanese una serie di lettere di odio e di telefonate da svitati dice lui e la sua intenzione non è di dichiarare che Gesù Cristo era nero dal punto di vista storico e razziale ma semplicemente dire che adesso oggi nella stagione dei diritti civili può esserlo e qui non c'è tempo però di scendere però è molto interessante notare come sulla stessa rivista di Ebony vengono pubblicate delle lettere di lettori in maggioranza afroamericani come sono quelli di Ebony fortemente contrari a questa scelta del gesù nero cioè non bisogna pensare naturalmente che queste scelte contro culturali siano appunto delle scelte condivise dalla maggioranza anche dei fedeli afroamericani la maggioranza in realtà dei fedeli afroamericani sono insofferenti a volte anche disgustati da queste operazioni e qui si aprirebbe un capitolo enorme sul perché e forse si capisce anche il perché sul perché queste inviti all'iconoclastia non vanno molto a buon fine nella storia della storia americana del cristianesimo americano non solo perché le gerarchie bianche non sono molto propense a cavalcarle ma in realtà anche gli stessi cristiani neri lo sono poco e specialmente cattolici che vogliono per una sorta di strategia della distinzione differenziarsi dai cristiani protestanti evangelici soprattutto ci sono lettere molto belle dal punto di vista storico di cattolici degli anni 60 che si scagliano contro l'inculturazione nera della liturgia sotto forma del nazionalismo appunto nero del black power e che si scagliano anche contro i riti protestanti che dicono basati sull'emozionalismo sul caos noi vogliamo essere cattolici che fedeli a una tradizione e questo è un peso immenso quando svanisce la lunga ondata del contestatario del black power cioè nonostante ci sono delle manifestazioni di contro cultura per esempio questa Gesù pitturato di nero a Detroit sempre nel corso dei Detroit riot dell'estate 67 in un seminario cattolico si pittura di nero Gesù cosa decidono di fare prima decidono di ripitturarlo di bianco poi si verifica un'ondata di proteste addirittura sotto il seminario i militanti del black power vanno a insultare l'istituzione cattolica che ha ripitturato di bianco la statua allora si decide di ripitturarla di nero cosa viene detto all'epoca che molto ironicamente che è una sorta di polizza antincendio cioè si tratta di evitare che venga sostanzialmente devastato bruciato il seminario la cosa interessante è che 50 anni dopo questa statua è ancora pitturata di nero viene mantenuta di nero restaurata di nero e viene presentata come un simbolo dell'antirazzismo cattolico già all'epoca quando invece insomma come brevemente ho cercato di dire sicuramente non poteva esserlo e per chiudere si può dire che il Cristo nella tradizione cattolica Gesù nero non ha non ha molta in parlo degli Stati Uniti non ha molta molto successo ma vengono proposti altri culti e altri altre icone di di nerezza tra cui questa di Martin de Porres Martin de Porres che viene fatto è un terziario donato domenicano dell'età moderna di Lima diventa una delle icone del a cui i neri cattolici innanzitutto possono fare riferimento verrà poi canonizzato da Giovanni XXIII però è interessante come anche in questo caso l'invocazione da parte dei cattolici nei federated colored catholics di un'autonomia di culto our black holy men and women stand before the throne of the almighty god uninvoked by us si trasforma in realtà in una molto più complessa caratterizzazione di questo santo come santo della dell'interrazialismo appunto una via di mezzo tra ovviamente interrazialismo che nega il razzismo discriminazionista specialmente dalla metà degli anni 50 ma che nega anche un antirazzismo militante connesso alla black protest e al black power si tratta di conquistare i neri al cattolicesimo si tratta anche di fare i loro interessi ma si tratta anche di rivendicare una qualità di questo personaggio che è l'umiltà John Lafarge il leader del movimento interraziale scrive su interracial justice nel 62 the humility of Martin de Porres cioè la capacità di non cadere nella ribellione e nel risentimento il santo dell'integrazionismo e dei diritti civili contro i musulmani neri e la black protest quindi diciamo è interessante come comunque l'iconografia anche nera di santi neri venga molto plasmata in un'ottica che va nella direzione opposta all'autodeterminazione appunto degli afroamericani cattolici in realtà e questo vale anche per altre icone come i martiri dell'Uganda oppure anche le stesse icone della madonna nera che vengono usate in modo decontestualizzato in questo ambito chiudo veramente adesso con questo esempio un esempio molto più recente di un di un sacerdote di Los Angeles che negli anni novanta siamo negli anni novanta e quindi siamo in un'età post stagione dei diritti civili si chiama George Stallings il sacerdote decide di uscire dalla chiesa di fondare chiesa cattolica romana e di fondare una propria congregazione afroamericana cattolica dei mani temple i mani vuol dire di fede proprio su questo punto negare la storicità e la caratterizzazione iconografica del Gesù Bianco e cosa fa questo personaggio che è un personaggio controverso decide nel 93 siamo in una stagione in cui si riverificano altri rivolte razziali anche a los angeles decide di convocare per la pasqua i fedeli sono in totale in america avrà all'apice 4000 fedeli la sua congregazione per bruciare e distruggere le icone del Gesù Bianco e sostituire l'icona appunto del Gesù Nero e qui abbiamo proprio il video che illustra questo black christ black church project un progetto appunto naturalmente minoritario che si che esce dalla chiesa cattolica ma che comunque ci racconta di un momento in cui non soltanto il il tema dell'immaginario dell'iconografia religiosa bianca diventa un tema nuovamente scottante ma anche diventa determinante per la propria partenza religiosa appunto da fondare su una base afrocentrica contraria all'eurocentrismo una propria fede diversa che abbia come punto essenziale l'identità antirazzista e quindi un'identità autonoma anche slegata appunto alle rivendicazioni emancipazioniste del black power cioè non siamo più in quella stagione lì siamo in una stagione in cui l'afrocentrismo diventa un motivo identitario valido per uscire dalla chiesa cattolica questo è il video Matteo Matteo non si sente ah scusate sopra la la condivisione Matteo ci dovrebbe essere un l'indicazione per condividere anche l'audio del computer un attimo allora scusate mi sentite comunque si si se tu fai la ricondivisione del desktop sopra l'indicazione del desktop c'è scritto condividi audio scusate ma non è proprio sopra è dove c'è la condivisione ok quella la vedo ma non non vedo la vabbè comunque dovrebbe essere lì vabbè non importa vediamo diciamo vediamo le immagini vediamo le immagini mi dispiace per questo inconveniente ma comunque non è così forse essenziale comunque le immagini le state vedendo ora no adesso hai tolto la condivisione quindi devi rimettere la condivisione scusate per questo comunque sostanzialmente il video spiega appunto questa iniziativa che si dice è stata controversa e non accettata anche dall'interno da molti cattolici anche da molti cattolici che hanno seguito questo sacerdote e però si riportano le immagini di quella giornata di a questo è questo è appunto il sacerdote che spiega come hanno chiesto di bruciare appunto le immagini questo è il Cristo che è un impostore e questa è l'immagine appunto di Salman bruciata simbolicamente e non solo simbolicamente ok veramente quindi chiudo con questa immagine che forse è indicativa anche dell'esito di questi dibattiti su anche la fallacia forse dell'argomentazione sulla colorblindness di Gesù sempre nel 2020 a settembre l'Accademia Modificia della Vita ha postato su Twitter questa immagine riattualizzando la pietà di Michelangelo e questa immagine ha suscitato dei tweet velenosissimi da parte di tanti cattolici dicendo che è una blasfemia è uno sfregio alla tradizione e forse questo mostra più di qualsiasi altra l'altro esempio la debolezza di una semplice argomentazione per cui ogni cultura può scegliere il colore a cui attribuire l'iconografia di Gesù della Madonna dei Santi io ho finito spero di non essere stato troppo di non avere troppo divagato